Hanno fatto eruzione in cerca di denaro e alla fine hanno portato via numerosi grattevinci per svariate centinaia di euro. Sono tre i giovani che hanno agito immortalati dalle telecamere di videosorveglianza collocate sia all'esterno che all'interno dell'area di servizio Make Service sulla statale 115 Gela Vittoria. I tre ladri sono attivamente ricercati dalla polizia. Si tratta dell'ennesimo raid furtivo commesso ai danni della struttura dell'imprenditore Maurizio Melfa. Come legge l'ennesimo furto subito dalla sua azienda? Questo ennesimo furto diventa un atto che noi interpretiamo come un segnale di allarme forte per questa città. Quindi a questo riguardo quello che penso è che bisogna intervenire prontamente per cercare di fronteggiare questa emergenza economica e sociale. Dunque un disagio vero e proprio secondo lei dettato da cosa? Dettato dal fatto che a Gela manca la cultura di impresa, manca quel motore come si trova in Emilia, Romagna, come si trova in altre regioni che porta lavoro e occupazione. Quel motore che dà la possibilità a chi vuole investire di poterlo fare. Investitori italiani, gelesi, stranieri. Quindi io penso che non può più essere questa la terra dove per avere un certificato ci vogliono 15 giorni. Non è possibile, siamo fuori dai tempi. Il rammarico per quanto accaduto è tangibile nelle parole di Melfa ma quello che colpisce di più in questa vicenda, così come sottolinea lo stesso imprenditore, è l'amara constatazione che si delinque quasi per necessità. Non nutro nessuna rabbia nei confronti di questi ragazzi, non che non vadano colpevolizzati, ma ci sono delle grosse responsabilità, quelle vere, gli atti criminali sono di quei politici, di quei funzionari burocrati che con i loro atti non promuovono lo sviluppo. Quindi questi ragazzi sono delle vittime di questo sistema malato che non funziona. Lei sosteneva che c'è una burocrazia lenta, se vogliamo anche elefantiaca, ma lei è stata anche vittima di questa burocrazia? Sì, da circa 20 anni, perché come dicevo prima io per un certificato mi rifiuto di dovere chiedere un favore. Abbiamo una cultura che è la cultura della rassegnazione che dobbiamo subire. Si deve finire questa storia perché dobbiamo tirare un po' tutti fuori gli attributi e dire basta, dire se io voglio fare una cosa per me ma soprattutto per gli altri, nessuno si deve mettere in mezzo. Per Maurizio Merfa i miglioramenti a Gela, tanto sbandierati, sono pari allo zero. Ho creato una task force, perché io non sono un politico, dove si coinvolge innanzitutto la prefettura, perché se c'è un'emergenza criminalità la prefettura è coinvolta. Allora un tavolo forte con sindaco, prefettura, forze dell'ordine, sindacati, imprenditori, dove chiunque voglia fare lo possa fare, non deve chiedere favori, anzi viene sostenuto. E allora in questo modo le cose possono cambiare.